La guerra riguarda tutti. Se la Russia dovesse invadere l'Ucraina, le ripercussioni potrebbero giungere fino in Abruzzo. Il 41% del gas che arriva in Europa innanzitutto proviene dai giacimenti siberiani. Nel 2021 oltre un quinto di quello arrivato, secondo l'Oxford Institute for Energy Studies, ha attraversato l'Ucraina. Ma c'è dell'altro, dall'allargamento della NATO a est, dall'intervento militare russo e da un'eventuale guerra, l'Abruzzo potrebbe perdere 86 milioni di euro. Questo l'ammontare dell'export abruzzese verso la Russia, secondo il Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila. Degli 86 milioni, 51 riguardano le esportazioni della sola provincia tiatina. Se consideriamo i problemi già attuali, come l'aumento del costo delle materie prime e dei trasporti della merce, in caso di embargo e sospensione degli scambi commerciali, il danno per l'economia abruzzese potrebbe essere immane. C'è un precedente, quando nel 2014 il governo di Putin decise l'occupazione della Crimea, anno in cui fu soppresso il volo Pescara-Mosca. A causa del conflitto, dal 2013 al 2021, l'export abruzzese ha registrato un calo di oltre il 75%, il crollo peggiore tra tutte le regioni italiane. Se nel 2013 il valore delle esportazioni era pari a oltre 260 milioni di euro, nel 2021 è stato meno di 63 milioni. Il Chietino, nel periodo considerato, ha perso l'81% e detiene un inquietante primato tra i primi 20 territori italiani presenti sul mercato russo per valore delle esportazioni e quello che registra il crollo peggiore, tanto da scivolare al quarantesimo posto. Solo la provincia dell'Aquila registra una crescita negli ultimi nove anni, pur restando tra gli ultimi territori per valore dell'export. Auspichiamo che ci sia ancora spazio per la diplomazia, ha dichiarato il direttore generale di Confartigianato Chieti l'Aquila, Daniele Giangiulli.